Crutch, Bind, Set, benvenuti cari amici del canale Dumpat Rugby, preview e pronostico delle finali di Coppa, Challenge e Champions. Però, prima di iniziare, fatemi ringraziare, fatemi ringraziare ragazzi voi, fatemi ringraziare la community, perché siete dei grandi, veramente, fatemelo dire. Siamo arrivati a 1600, abbiamo da poco festeggiato il traguardo dei 1500 iscritti, bene, 100 in più. Uno dirà, ma sì Danilo, cosa c'è da festeggiare, 100 in più, 100 in meno? No, no, c'è veramente da festeggiare, perché voi sapete che quando ho iniziato questo progetto del canale YouTube, avevo un po' l'ambiziosa idea di cambiare la comunicazione, di cambiare la maniera in cui vengono proposti i contenuti sul rugby, in qualche maniera nel mio piccolo, e il sapere che ho la fiducia di 1600 persone, di voi 1600 persone, beh, è una cosa fighissima, che mi fa stare benissimo, e quindi insomma, grazie ragazzi, grazie veramente di cuore. Allora, però, andiamo al dunque, perché non siete qui per sentire le mie autocelebrazioni, siete qui per sentire i pronostici e la preview delle finali di Coppa. Allora, pronostici, due partite, venerdì si inizia con Glescottolone, sabato ci sarà la finale di Champions, remake di quella dell'anno scorso, Leinster-La Rochelle. Ma prima, c'è due facce conosciute del rugby italiano, sono Franco Smith contro Sergio Paris, una delle tanti chiavi, no? Tra l'altro, Sergio Paris raccontò che aveva iniziato a giocare proprio assieme a Franco Smith al Benetton, nei primi anni della sua carriera. Bene, si troveranno alla Viva Stadium per la finale di Challenge, ma ovviamente non sarà solamente una cosa italiana, anzi sarà molto marginalmente una cosa italiana, e allora ragioniamo un po' su questa partita. Che partita vedremo? Allora, intanto secondo me ragazzi vedremo una partita forse poco spettacolare, forse, potrebbe essere che ci sia anche dello spettacolo perché gli interpreti ci sono tutti, però quasi sicuramente io, ecco, lì sì ci metterei la mano sul fuoco, vedremo una partita molto ma molto combattuta, a parer mio. Vedremo una partita dove le squadre si sfideranno, ovviamente, come una finale, come accade in tutte le finali, però ho un po' l'idea che sarà difficile romperla questa partita. Le condizioni dovrebbero essere, almeno stando alle previsioni attuali del tempo, ideali, non si prevede pioggia, non c'è troppo vento, la Viva Stadium si preannuncia strapieno di tifosi scozzesi, i francesi che di solito si spostano in massa invece non hanno risposto troppo presente alla chiamata alle armi, ne hanno parlato anche in settimana i giocatori di Tolone, ho visto un'intervista con Baptiste Serain e proprio Sergio Paris, dove dicevano, vabbè, ovviamente sarebbe stato bello avere tanti tifosi al seguito, però sappiamo che ci sosterranno da casa, però fatto sta che lo stadio sembrerà quasi di giocare in scotti, almeno questo danno le previsioni sulle vendite dei biglietti. Pressione, la pressione sarà forse più su Tolone, a parer mio, perché? Perché Tolone, intanto questa finale la perde sempre, l'ha persa già quattro volte nella sua storia, quest'anno non ha centrato il grande obiettivo in campionato che era qualificarsi alla Top 6, hanno ancora una residua speranza però è veramente minima, e l'anno scorso appunto hanno perso la finale di questo torneo con il Lione, no? Ve la ricordate? Partita così così di Sergio Paris, partita stratosferica di Niniashvili, non so, di quella partita mi resta in mente Niniashvili che prende Zebet e lo pianta per terra e poi è Zebet che pochi minuti dopo gli entra in una racca in maniera incivile, definiamola così, incivile. Comunque, restiamo su questa partita, perché da tenere in considerazione sulla bilancia c'è anche che Glasgow ha avuto una settimana di riposo in più e quindi, attenzione, una settimana di riposo in più e una settimana di preparazione alla partita in più perché sì, è vero, anche Tolone già da dopo la partita col Benetton Treviso ha iniziato a ragionare su questa finale però in mezzo c'era la partita con la Rochelle dopo appunto c'è stata la partita della settimana scorsa con il grande turnover che è stato fatto insomma, distrazioni ne aveva di più distrazioni ne aveva di più invece Glasgow, una volta finita la partita con Monster che è andata non come avrebbero voluto però testa totalmente alla finale insomma, il fattore ambientale e motivazionale dovrebbe pendere più dalla parte degli scozzesi ma andiamo a vedere un po' invece che cosa spettarci in campo al di là della motivazione allora, Glasgow Glasgow a parer mio è una squadra molto più compatta di Tolone e molto più squadra ecco, se va dato merito a Franco Smith quest'anno è quello di aver fatto sposare il suo progetto alla squadra la squadra veramente segue i dettami dell'allenatore l'hanno ripetuto praticamente tutti ogni volta che intervistano un giocatore di Glasgow lo ripete abbiamo capito che quello che ci propone Franco Smith is the way, è la via e we stick to the plan beh, insomma, un grande merito un grande successo per un allenatore che ragazzi, dopo quel periodo con l'Italia aveva perso molto molto credito ecco, è andato a Glasgow e io direi che lo ha guadagnato questo credito come stile? beh, insomma, stile smittiano lo conosciamo abbastanza bene Glasgow è una squadra che io definisco seria è una squadra molto molto seria ossia resta sul piano di gioco e uno dei grandi risultati di Franco Smith oltre a quello di convincere la squadra della sua idea è stato anche quello di allargare la profondità della rosa per non dover sempre scegliere solamente tra i soliti nomi che per carità sono grandi nomi i fratelli Faggerson, Dempsey, Darghi, Tui Pulotu eccetera 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 però Smith ha detto sempre con gli stessi giocatori andremo un poco lontano e allora durante la stagione ha provato a coinvolgere più e più giocatori il risultato è veramente pregevole inoltre in questa partita appunto il lavoro di ampliare le scelte fa sì che Franco Smith qualche mal di testa nel fare la formazione ce lo potrebbe anche avere non troppi, non troppi immaginiamo quando faccio questo video non è ancora uscita la formazione immaginiamo qualcosa di molto simile alle ultime due uscite però per esempio non ci potrà essere Tom Jordan Tom Jordan squalificato dopo la partita con Munster tra l'altro l'espulsione che gli è poi costata la partita a Glasgow o quantomeno le opzioni di giocarsela ci sono varie opzioni all'apertura potrebbe andare Miotti che forse è la più logica però potrebbe anche venire ripescato il buon Duncan Weir o magari McDowell spostato all'apertura interessante anche la scelta a mediano di mischia si dovrà scegliere tra due ottime ottime opzioni Ali Price e George Orn ecco ultimamente si sta andando molto più verso George Orn che sembra il vero interprete del gioco di Franco Smith attenzione gioco di Franco Smith dove il mediano di mischia è estremamente importante e fondamentale perché pensate che Franco Smith un po' come accadeva anche con l'Italia e che per ragioni diverse accade anche adesso con Kieran Crowley è un allenatore che vuole un gioco sempre veloce prevede pochi cambi di ritmo però vuole andare sempre a mille all'ora pensate che Glasgow ha l'uscita del pallone dalla rack più veloce tra tutti i campionati messi assieme Top 14 Premiership e UFC i campionati europei insomma la rack più veloce del mondo ecco questo potrebbe essere un qualcosa che in qualche maniera potrebbe anche impensierire Tolone che ha anche giocatori che a fine stagione potrebbero patire un ritmo molto molto elevato con Treviso per esempio Tolone è riuscita a romperlo assolutamente quel ritmo e Treviso non è riuscita ad accelerare anzi Tolone lì ha lavorato di esperienza ha lavorato di classe ha lavorato di di tutto quello che hanno i grandi giocatori per il resto altre caratteristiche fondamentali di Glasgow beh la capacità di battere l'avversario diretto nell'uno contro uno sono la migliore squadra dello URC in questa voce statistica e poi il grosso lavoro che fanno sul punto di incontro e lì sarà compito anche degli avanti che ho nominato prima a finire a chiudere questa ricetta a mettere quel po' di sale cubi o di pepe beh insomma l'italiano tra virgolette l'ex italianizzabile tui pulotu ecco quello sarebbe stato veramente interessante ma vai scordiamocelo è scozzese quest'anno insomma ha avuto la stagione veramente che lo ha consacrato a top player uno dei giocatori che ci ha più sorprese almeno che mi ha più sorpreso anche la stagione scorsa aveva fatto molto molto bene di quest'anno Tolone Tolone a parer mio è molto più individualità Tolone si basa molto più sui singoli giocatori tant'è vero che anche nel campionato francese ne ha perse tante e se andiamo a vedere le formazioni molto spesso quando per una o per un'altra ragione tanti anche gli infortuni non ha avuto i suoi interpreti migliori mentre Glesgo è una squadra che anche senza i suoi interpreti migliori non cambia troppo Tolone è una squadra che cambia radicalmente la buona notizia per Tolone è che in questa partita ce li avranno praticamente tutti anche perché Mignonez e Mà hanno fatto una scelta molto criticata in patria la settimana scorsa di fare turnover nell'ultima spiaggia fondamentalmente per prendere la top 6 i playoff ne hanno ripeto ancora una piccola possibilità però è molto probabile che non ci riescano e allora Colby Biggar Prisot Paris Battisserand Vainicolo Paiua Gabin Villier beh la settimana scorsa non c'era nessuno di questi e ci saranno tutti nella finale uno dice vabbè ok allora la vincono facile saranno freschi sì saranno freschi però questa scelta a livello di gestione emozionale nello spogliatoio di Tolone e nell'ambiente di Tolone che già uno è un ambiente complicatissimo Tolone e probabilmente la Madrid Real Madrid o Barca del rugby francese con un pubblico molto molto esigente ogni tanto fischiano anche la squadra quando non non performa come loro si aspetterebbero ed è un po' che non performano come loro si aspetterebbero beh insomma questa scelta ha generato un po' di tensione non si vivono proprio acque tranquillissime a Tolone poi questa partita viene vista come l'ultima danza di vari giocatori tra cui prima di tutti Paris insomma potrebbero avere la testa un po' un po' sulle nuvole Tolone però le armi vincenti saranno soprattutto due l'esperienza di tutti questi giocatori che ho appena citato basta pensare a appunto Bigare Paris ok ma anche Colbe beh insomma ce ne ha veramente una una caterva di giocatori con una grandissima esperienza anche a livello internazionale molto molto alto e appunto poi questi giocatori il loro valore individuale no? quindi un diciamo un insieme di grandi grandissimi giocatori che però non sempre riescono a creare quell'effetto esponenziale che dovrebbe generare la squadra contro una squadra che ha comunque degli ottimi giocatori ha una una buona base della nazionale scozzese che quest'anno segue quasi religiosamente un'idea di gioco messa così messa così io guarderei un po' più verso Glasgow guarderei un po' più verso Glasgow e invece anche guardando le quote favorita Tolone perché perché le individualità di cui parliamo sono veramente stellari e lo hanno fatto vedere ad esempio quando sono tornati nella partita controviso da non sottovalutare perché sì noi abbiamo guardato più dalla nostra parte però se pensiamo che Tolone è riuscito a vincere una partita giocando tutto il match in 14 contro 15 levandoci un po' i paraocchi del tifoso e guardandola dall'altra prospettiva dobbiamo ammettere che Tolone ha fatto una signora partita ed era finalmente la partita dove aveva di nuovo tutto il suo effettivo no? Quindi giocheranno con le loro armi che abbiamo visto anche contro il Benetton mischia chiusa Moll rimessa laterale dove vedremo The Last Dance di Sergio Paris e poi si passerà ovviamente dalle mani di Biggar e dietro quei due fenomeni di nome Villiers e Colbe beh insomma ce n'è ce n'è ce n'è tanta ce n'è tanto pronostico allora le quote danno favorita Tolone per me non sarà così semplice Glasgow è estremamente solida e velocizzando il gioco potrebbe realmente far pagare a Tolone una magari uno stress che potrebbe iniziare ad accumularsi minuto dopo minuto per l'aspettativa per la stanchezza per la voglia di fare e magari di strafare una squadra contro tante individualità non può essere non può essere totalmente sbilanciata verso Tolone a parer mio io se dovessi fare un prono direi 55 Tolone 45 Glasgow e mi tengo anche stretto forse 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 più verso il 50 50 ma dai diciamo 55 Tolone 45 per cento Glasgow comunque pronostico che va abbastanza contro quello che invece viene offerto dai bookmaker che cosa ne pensate? scrivetemelo nei commenti e poi ci guarderemo la partita ragazzi farò le live farò le live delle due farò le live adesso di tutte le finali quindi challenge champions urc top 14 premiership e anche del top 10 quindi ci aspettano nelle prossime settimane già questa settimana due e poi nelle prossime settimane ce ne aspettano anche altre 6 live di 6 finali finalmente torniamo a fare le live attendendo poi che rinizino anche gli italiani la nazionale e poi il mondiale il mondiale ma prima di guardare la nazionale al mondiale guardiamo alla finale di champions alla fine stiamo parlando di del massimo che possiamo aspettarci dal rugby di club e allora l'Einster la Rochelle l'Einster la Rochelle remake remake della finale dell'anno scorso e già solo questo sarebbe motivo di grandissimo interesse se poi ci aggiungiamo qui alla ricetta che la Rochelle l'allena il nemico storico dei Dubliners no? Ronaldo se poi ci aggiungiamo che si gioca a Dublino alla Viva Stadium se poi ci aggiungiamo che l'Einster ha clamorosamente perso con Monster la semi di UFC la semifinale di UFC con un azzardatissimo e forse quasi folle turnover che adesso deve pagare i dividendi in questa finale perché se no l'investimento è stato veramente pessimo beh insomma mettiamoci tutti questi ingredienti e abbiamo la ricetta di un grande grandissimo spettacolo che ci attende sabato proviamo a raccontarla proviamo a capirla proviamo a leggerla allora iniziamo dal fattore ambientale si gioca alla Viva ma secondo me non sarà un enorme vantaggio per l'Einster ossia sull'Einster c'è molta molta pressione per tutte le ragioni dette sopra intanto già solo il fatto che la Rochelle l'ha vinto l'anno scorso e come l'ha vinta e l'Einster la persa già questo mette più pressione sull'Einster e poi dopo la semifinale persa in casa anche quella alla Viva Stadium beh perdere sarebbe percepito veramente dai tifosi sì fatemelo dire come un fallimento ok ho capito Giannis Giannis ci ha raccontato che perdere non è un fallimento ma uno step to success un passo verso il successo sono d'accordo sono assolutamente d'accordo allora però diciamo che farebbe molto ma molto incazzare i tifosi di l'Einster e tra l'altro nemmeno emozionalmente non sarebbe positivo per lanciarsi verso una rugby World Cup attesa quanto mai in Irlanda dove partono nella griglia di partenza in pole position sono la numero uno del mondo la Rochelle al contrario è in una situazione quasi ideale emozionalmente sono ancora dentro il top 14 sono ampiamente dentro il top 14 anzi sono in semifinale l'anno scorso pagarono lo sforzo fatto nella finale di Champions col top 14 festeggiarono una settimana dopo la vittoria poi riuscirono a qualificarsi alle top 6 però poi furono eliminati quest'anno invece sono lì tranquilli avranno anche la settimana di pausa perché aspetteranno il barrage sono o seconde o prime dipende dal risultato dell'ultima di campionato comunque sono estremamente tranquilli in campionato sono i campioni in carica quindi sì è ovvio la voglia di vincere c'è sempre ma se perdessero una volta l'abbiamo vinta una volta l'abbiamo persa e tra l'altro anche il fattore ambientale non saranno abbandonati perché si parla di una bella presenza che a differenza di Tolone la Rochelle si parla di una bella presenza di tifosi francesi al seguito insomma emozionalmente io preferirei tutta la vita essere dalla parte di la Rochelle a livello di gioco sì perché poi il fattore questa parte emozionale deve essere una parte marginale poi del peso del pronostico ogni tanto c'è la tendenza a sopravvalutarla un po' però va tenuta in considerazione a livello di gioco beh si affrontano due scuole irlandesi alla fine perché si affronta la scuola irlandese Leinster che poi si rispecchia in nazionale in nazionale appunto con Farrell e qui con Callen che cos'è beh è molto semplice l'armata Leinster quindi si parte davanti mischia ferocia nel breakdown avete visto la battaglia campale che c'è stata contro Monster la settimana scorsa possesso tanto possesso e poi strutture no? che passano per le mani di Sexton ah no non c'è Sexton no non c'è Sexton non c'è Sexton non c'è Sexton beh immagino ci sarà Byrne spero quello buono non il fratello che hanno messo la settimana scorsa ma Rose Byrne che è stato nominato migliore apertura del campionato e credo che metteranno quello buono contro la Rochelle che fondamentalmente passa davanti dalle stesse cose con dei giganti clamorosi no? come Atonio come Sclavi come Skelton quindi una lotta davanti da titani da veri e propri titani addirittura la Rochelle io credo che i punti di forza di Leinster davanti li estremizzi quasi no? rendendoli proprio centrali nel proprio gioco poi però l'idea è una volta che riusciamo a rompere davanti mentre l'Einster passa per appunto il playmaking la Rochelle passa per il KBA che cos'è il KBA? è quello che Ogara definisce keep the ball alive ossia una volta che riusciamo a rompere davanti dobbiamo trovare la continuità diretta e poi solo dopo forse passiamo per il gioco rotto quindi gioco alla francese e lì rinasce l'animo francese tutto questo unito dal piede di uno dei realizzatori più più recisi in top 14 che è Astoi interessante no? ci sono veramente degli spunti interessanti per godersi queste due partite sono due partite a scacchi due partite assolutamente imprevedibili allora io anche qua ragazzi vado controcorrente le quote danno molto favorito l'Einster probabilmente fa molto peso in questo in questa valutazione il fatto che giochino in casa pesa molto in questa valutazione il fatto che siano mezza nazionale irlandese che sono i migliori del mondo cosa volete che vi dica però 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 secondo me mentalmente non è una partita semplice questa per l'Einster soprattutto dopo la settimana scorsa io dico 60-40 60% l'Einster 40% la Rochelle sperando di non sopravvalutare troppo il fattore emozionale però però è un'altra partita dove si potrebbe arrivare vicini nel finale e allora lì sì che conta anche la testa conta tanto la testa adesso non è che l'Einster abbia una brutta testa però ultimamente ha iniziato a perdere qualche colpo quella partita persa molto molto male con i ragazzi dell'Accademia fondamentalmente che conta quello che conta però comunque per l'Einster perdere così è strano all'ultima di campionato e poi quella della settimana scorsa dove giocavano in casa con i favori del pronostico con lo stadio che li spingeva si sono fatti sentire anche i tifosi di Monster insomma e alla fine e alla fine Crowley badaboom gli ha messo gli ha messo il droppone e tutti a casa felici e contenti ecco anche quello non è proprio semplicissimo riprendersi emozionalmente da un colpo così eh ho capito che tanti non erano il campo ma proprio come gruppo squadra non è semplicissimo riprendersi da un colpo così comunque saranno due partidassos come dicono qua in Spagna due partitoni due partitoni tutte da godere io sarò in live venite qui nel canale commentate sotto come le vedete voi chi secondo voi favorito sfavorito dovesse decidere la partita io vi ringrazio ancora così come ho fatto all'inizio video non mi resta altro che ricordarvi di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti così adesso iniziamo a viaggiare verso i 2000 se siete già iscritti invece potete fare un sacco di altre cose potete attivare la campanella potete mettere un like potete mettere un commento potete invitare i vostri amici a iscriversi potete entrare nella community Patreon insomma ci sono tante tante cose che potete fare per spingere questo canale fischio finale un grande grandissimo bacio e ci vediamo con i prossimi video ciao ragazzi